Bentornati al nostro appuntamento. Oggi parleremo di una cosa che era attesa da un po' di tempo, molti pensionati aspettavano la disponibilità della certificazione unica, da un paio di settimane finalmente disponibile e con questa certificazione è possibile predisporre quella che è la certificazione dei redditi. Ricordo che anche quest'anno c'è la procedura di dichiarazione dei redditi precompilata, accedendo anche con le credenziali del PIN-INPS sul sito dell'agenzia delle entrate si trovano già i dati presenti nella certificazione unica e quindi è possibile presentare la dichiarazione precompilata. Vediamo come funziona la certificazione unica. Anche quest'anno la certificazione unica utile per la dichiarazione dei redditi è possibile trovarla sul sito inps.it. nell'archivio e del fascicolo previdenziale del cittadino ci sono anche le dichiarazioni degli anni precedenti. Per esempio ricordiamo che la certificazione che serve per la presentazione di l'ISEE non è quella che abbiamo rilasciato adesso ma è la certificazione unica relativa all'anno precedente. Quindi lì si trova quest'ulteriore documentazione. Come si accede materialmente? Materialmente andando sul sito inps.it, cliccando su tutti i servizi si può trovare sia tra i servizi più cliccati in questi giorni sicuramente così ma anche cercando proprio certificazione unica sulla barra di ricerca interna. Accedendo poi con il proprio inps credenziali speed o carta nazionale dei servizi si può avere il pdf della dichiarazione di certificazione unica. La novità di quest'anno è molto importante perché l'istituto ha un'applicazione mobile che sta integrando sempre più servizi quindi la certificazione unica 2019 è scaricabile tramite l'app IMS Mobile in cui sono inseriti tutta una serie di servizi dal vedere il cedolino al richiedere alcune tipologie di prestazioni. Da quest'anno anche la certificazione unica è possibile scaricarla comodamente sul proprio cellulare. Ovviamente sappiamo che la certificazione unica interessa sia i nostri ascoltatori pensionati ma anche i titolari della Naspi che forse sono più pratici con le applicazioni sul cellulare ovviamente sia per iOS che per sistema Android. L'ulteriore possibilità è quella di avere una PEC da inviare a richiesta certificazione unica.pec.gov.ips in modo tale da poter avere questa certificazione unica. Come potrete immaginare la certificazione unica non può essere richiesta tramite email semplice perché si tratta di dati sensibili del titolare che noi non possiamo consegnare a qualunque cittadino ma solo a chi dimostra di essere proprio il cittadino che ha diritto a conoscere la propria situazione reddituale. Vi ringrazio ovviamente inoltre è possibile recarsi personalmente presso le siti IMS e richiedere la stampa della certificazione unica. Vi ringrazio alla prossima puntata. Grazie a tutti.